E' bello il tuo video del Mario e benvenuti a questo video, io sono Mr.Dylan Io oggi che siamo qui in un unissimo video molto goliartico, raga Oggi raga andremo a reagire ai primissimi video che hanno fatto i youtuber italiani, raga, ok? Quindi ragazzi andremo a reagire ai youtuber italiani tipo Crazy Mad, non lo so, altri youtuber Intanto ragazzi, un youtuber che conosco, raga, che ha ragionato, non mi sono iscritti, raga, è Cadiax, no? Se commenti, scrivetemi nei commenti se lo conoscete, Cadiax, comunque c'è 300.000 iscritti a fare 2.000 views, però ok E' molto bello a tutti i ragazzi e benvenuti in questa visione video, ragazzi sono Cadiax Oggi siamo tornati a... No, guarda, non sei Cadiax, ma sei... ma sei... già Filippo, ok? Per i 200 iscritti, dove vi mostrano appunto la mia postazione alla gaming, che ovviamente non è completata perché mancano... Adesso c'è... qui aveva ancora una posizione scala, adesso c'è una posizione della madonna Un sacco di cose, però è quello che, insomma, utilizzo, che vado a giocare ogni giorno più di due ore Dove streamo, faccio tutto quanto, quindi spiegherò tutti i miei trucchi, tutto quanto I trucchi, ma che trucchi hai, scusa? Truchi di magia! Dai, insieme a me... I trucchi di Harry Potter... Ah, quale era bella... Quanto, raga, spero che il video vi possa piacere, mi raccomando, raga, raggiungiamo 20 like, questa volta 20 like, raga, 20 20 like chiedeva qua Cadiax, eh Come minimo, in un giorno 20 like, che direi, vi lascio il video, bella poi Ok, ragazzi, come prima cosa abbiamo una tastiera, questa tastiera è una metal keyboard Va bene, comunque 500 like, non lo so Della Trust Gaming, così poi il luminale Della Trust, complimenti Io c'ho questo, ti ha Ha tre colori disponibili, però, eh, cioè, insomma, c'è anche quest'altra modalità che gli fa, insomma Quest'altra modalità Ok Scorre tutti quanti automaticamente Diciamo che questa tastiera, raga, non è che ne vado pazzo, però dobbiamo dire che è anche una bella tastiera, raga Ci sta un botto, non fa tanto rumore, guardate Fa pochissimo È una, come si chiama, una Non è una, quella mia che fa Ok, sentite il rumore che fa la mia C'è tipo una, un'altra, una Una membrana, una tastiera membrana Scusate, non mi arrivava il termine Questo è una cosa che mi piace tantissimo Perché c'erano molti streamer che utilizzano tastiere che fanno un bordello incredibile, raga Fanno un bordello incredibile Comunque trovate tutto quanto, tutti i miei articoli in descrizione Poi, qua passiamo al mouse, ragazzi Questo mouse è sempre della Trust GXT da gaming Avevo 17, appena ho compiuto 17 anni, chat Qua, in questo, credo 22 aprile 2019 Perché avevo compiuto esattamente 17 anni Ora ne ho 19, quindi Quindi adesso Sì, perché, ragazzi, due giorni fa era il mio complano Perché non lo sapeva, comunque, GG Allora, ragazzi Oggi andremo, ragazzi, anche a vedere questo qua Questo è l'intervista qua Cioè, guardate qua, ragazzi Secondo me, ragazzi, guardate Il me del passato Che è quello là Quella maglietta grigia I occhiali rotondi Tutte cose O me adesso del futuro, ragazzi Secondo me, chi è meglio? Io adesso del passato Cioè, del futuro O il me del passato di due anni fa Raga, non so, scrivetemelo nei commenti Cioè, vi lascio una foto Senti, il me adesso del futuro E il me del passato Trovate la differenza Cioè, non c'è, credo Vabbè, solo che ho due anni in più di quell'altro Però, non c'è l'altro Stordina Cadiax No, sì, Mr.D Quanti anni hai? 17 13 Ecco qua, ho detto 17 Adesso sono 19 Vedete Professione Studente Youtuber Complimenti Eh, ma è del passato Va Ctp per definirti Sì, ragazzi Questo video, ragazzi Perché non l'ha visto C'è sia sul canale di Kadex Ma anche sul mio canale Ragazzi Se non mi sbaglio Tipo l'avevo cronchietto Come speciale 4400 iscritti A 400 iscritti Era Vosso Dei compri due anni Comunque Beh, era per dirvi O tre No, tre Dovrebbe comporirla Però, vabbè, dettagli Eh, non mi dico Comunque, ragazzi Guardate un po' Vedete, questo è lo stesso video Di quello là di Kadex Uguale Che me l'ha detto Che potevo ricaricarlo Infatti l'ho ricaricato Tico Poi I tori Ok Quando vedo Che a voi Vi piacciono i contenuti Vabbè, questa Questa Intervista Se volete darvi Andarla a vedere Ragazzi Vi lascio il link Qui nelle schede Di qui Sopra di me Nelle schede O vi lascio il link Anche nel primo commento In descrizione Ragazzi Quindi se volete Andarlo a vedere Potete recuperarvi Ragazzi Che questa Intervista Spaccava Ci hanno fatto anche Un sacco di YouTube Pup Regà Ok Sotto Facciamo così Ragazzi 150 like Che è una Una cosa impossibile Facciamo No 120 like Ok E andremo a Reagere Tutte le YouTube Pup Che hanno fatto Su di Merga E su Kadex 120 like E lo faccio Questo ragazzi Andiamo a vedere Un altro YouTube Regà Che ci sono Ragazzi Un sacco di YouTube Cringe Ormai su YouTube Italia Chi posso andare A vedere Ragazzi Un YouTube Che conosco Max Random Che è un mio amico Ragazzi Almeno credo Che sia un amico Poi non so Comunque Ragazzi Max Random Che si commenti I primi video Ragazzi Di Max Random Erano cringe Regà Al massimo Comunque Ragazzi Volevo dire una cosa Se Max Random Sta guardando Questo video Ma non credo Comunque Se dovrebbe guardare Il video Max Ti voglio augurare Tanti auguri Di buon complanno Fra Lo sto anche Per cercare In video Perché Perché tu Max Random Complanno 10 aprile All'8 Regà Cioè abbiamo Qualc'anno Di differenza Però Non è che Comunque Tanti auguri Max Di buon complanno Selezionato Max Ciao a tutti Dal vostro caro Max Ma Quanto Quanto Era piccolo Qua Max Era il 2016 Quindi Max Adesso Se non mi sbaglio Ho compito 16 anni Giusto Se non mi sbaglio Credo Credo di sì Non lo so Regà Però se non mi sbaglio Sì Se li calcoli Qua Avrà tipo Avuto 12 13 anni Qua Non lo so Però Vediamo Oggi Vi volevo parlare Delle trasformazioni Che sta subendo Questo canale Perché Prima Questo canale Era un canale Di effetti speciali Ora Mamma mia Effetti speciali Ho deciso Di trasformarlo In un canale Che riguarda L'intrattenimento In generale Per esempio Su questo canale Potrò trattare Di videogiochi Challenge Vlog Unboxing Di tutto E di Giù Lo sai Soltanto Tu Ok niente Io In questi anni Non ho caricato Video su questo canale Perché Perché Stavo occupando Io di un altro canale Si chiama Funny Gamer NG Forse Qualcuno di voi Lo conosce Già Dove io Caricavo Sempre Tutto Ci ho caricato C'è Quindi Diciamo Che ne sono Tanti Però Ho deciso Di tornare A questo canale Perché Mi mancava Ti mancava Ti mancava E fai bene Max Fai bene Però che Sono stra curioso Tanti fan Che mi seguivano Mi spiegate Perché Max Se mi senti Perché hai detto Ti vedo qua I commenti Cioè Perché Ragazzi Dopo due anni Di Di anni Sono tornato Ma non Un altro nome Con altro format Ok Quindi aveva Un altro nome Prima di Max Random Ok Quindi ragazzi Diciamo Che il video Presentazione Di questa Trasformazione Del canale Può anche Finire qui Se volete Che io faccio Dei giochi In particolare Scrivetelo Nei commenti Mi raccomando Condividete Anche questo video I vostri amici Per farmi Crescere Per farmi Diventare Ancora Migliore Ancora Megliore Ok Ancora Meglio Nei prossimi Giorni Con un nuovo Video E io vi saluto Con un saluto A quegli artico Cedini Regà Mille accendini E da notare Ragazzi Che è Mille accendini E ho scritto Pure al mio canale Perché se guardate Se vado A questo dashboard Ve lo mostro Regà Guardate Se vado Su iscritti Intera Durata Quello che ha più iscritti È Mille accendini Lego Chat Quindi Non mi interessa Non mi interessa Il tuo Metal detector Mi Mille Ottocento Like E Mille Ottanta Cinque Dislike Ma Secondo me Anche se hanno 200.000 Aspettate Guardate Hanno Punteggio Del sio 6,35 Quindi non hanno messo neanche i tag Vediamo Aspetta Vediamo una cosa Se da adesso Se sono i voluti I Mille accendini Credo di no Non si sono i voluti Proprio meno Di prima E i tag Vediamo i tag Se li mettono Non mettono i tag Ecco Vedete Sio Quindi non sanno Proprio loro Non sanno niente Di youtube Perché non hanno messo i tag Quindi Cioè Sono i voluti Da qua Ecco ma Siamo qua con Alessandro Per parlare di Di cosa parliamo Alessandro Oh Illustraci la tua nuova bicicletta Si E poi Cosa c'hai Cosa c'hai soldi Dove vai C'hai salti Si C'hai salti O i saldi Sì Vabbè andiamo a vedere Ragà Un altro canale Cringe Regà Perché Non so se lo conoscete Follettina Regà Perché Follettina E poi ragazzi Andiamo anche a vedere Il video del maestro Regà Del maestro goliardico Il maestro Regà Lui Regà Anche lui Voglio vedere Il primo video Del maestro Regà Non si sa ragazzi Se ritorna il maestro Su youtube Italia Però Questo video Dura un minuto E diciamo 50 secondi Di intro Ok Di solito lavoro Con decoupage Adesso da poco Ho iniziato a lavorare Il filmo Quindi sono le prime armi Con filmo Ma sono le prime armi Con filmo Anche con i video Quindi spero che sarete magnanimi Ho iniziato a seguire Ho iniziato a seguire dei video tutorial Di Erika Kawaii Dada Puccina creation E Nensi Jolibiju Quindi Ciao Bel video E complimenti Come Anche lui Non fa video Da un anno E ha fatto C'è A mezzo A mila Cinque Cinque 226 Mila Iscritti Regà E non fa video Da un anno C'è C'è Tutto Questo video È così lungo Ma io non lo guardo Sinceramente Like Che è venuto a vedere Il primo video Del maestro Like Se sei qua Dopo la scomparsa Del maestro Non piangere Perché è finito Sorridi Perché c'è stato Inizia tutto così Sei molto tranquillo Ma poi Quanto Che Da fette Al latte Pollo Pizza E tiramisù Ok Ok Questo è strano Vabbè Grazie Sparate Che in questo video Vi è piaciuto Ragazzi Iscrivetevi al canale Lasciate il like A tutta la campanellina Condividete questo video Tutte e quattro I vostri amici Ragazzi Nei social Instagram TikTok Tutti i social Che conoscete Ragazzi Mi raccomando Raggiungere 13.000 Iscritti Quindi Ragazzi Io vi saluto Un saluto Gugliardi Qua a tutti Bella Boys Peace Ufff Grazie a tutti.